La sicurezza dei parchi archeologici di Sibari e di Crotone è al centro di un progetto innovativo che mira a proteggere e valorizzare il patrimonio storico. Il programma è stato sviluppato per monitorare e salvaguardare le strutture dei siti archeologici utilizzando strumenti di ultima generazione. L'obiettivo è prevenire danni ed intervenire tempestivamente in caso di problemi strutturali o ambientali. Un anno fa ha presentato il progetto Safety and Security per il parco archeologico di Sibari che adesso è diventato Safety and Security per i parchi archeologici di Crotone e Sibari che prevede una completa dotazione di nuove strumentazioni per il monitoraggio delle strutture del parco di Sibari satellitari ma anche sensori, sensoristica che abbiamo acquistato e che stiamo installando e dunque dalla fine di quest'anno avremo un'imponente dotazione informatica che ci consentirà un grosso balzo in avanti nella gestione dei flussi, nella gestione del patrimonio. Nella ricerca stiamo già presentando in tutte le sedi nazionali e internazionali. Grazie alle installazioni di sensori avanzati e al monitoraggio satellitare è possibile ottenere dati in tempo reale sullo stato delle rovine. Questo consente un controllo continuo e curato riducendo i rischi di deterioramento. Inoltre l'implementazione di un sistema informatico all'avanguardia che sarà pienamente operativo entro la fine dell'anno. I parchi archeologici di Grotone e Sibari sono stati scelti come case study, come elemento di presentazione di nuove strategie di incontro del pubblico, di accessibilità. Dunque stiamo lavorando e abbiamo lavorato e stiamo raccogliendo i frutti di questa attitudine a porre l'innovazione e l'innovazione anche tecnologica alla base della nostra azione. Il progetto rappresenta un balzo in avanti nella conservazione dei beni culturali poiché offre soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide legate alla sicurezza dei siti. La tutela del patrimonio archeologico non riguarda solo la protezione fisica ma anche la promozione di un turismo sostenibile che rispetti e valorizzi le risorse storiche assicurando al contempo la sicurezza dei visitatori e del personale.